che succesi qua però 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 no 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 che bei diffusi che siete veramente bravi complimenti bravi complimenti ho visto delle foto che ho scritto forza munza forza munza forza ben diffusi complimenti bravi 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 no veramente bravi ben diffusi ben diffusi bravi bravissimi così si fa pisciamoci in faccia tra di noi sì juventus merda sì vai facciamo schifo vai forza munza sì vergognatevi pezzi di merda voi siete pezzi di me pezzi di merda voi siete pezzi di merda pezzi di merda voi siete pezzi di me chiuso vergognatevi vergognatevi solo a pensarla una cosa del genere solo a pensarla vergognatevi fate schifo fate schifo e chi ma chi ha dei problemi mi faccio un video o mi scrivi in privato che vi metta qual era un capo un capo l'appoggio un capo l'appoggio direttamente in capo vergognatevi vergognatevi grazie grazie grazie